Siamo qui con Adriano Nelli, Head of GWM Italy di Pinco, al quale vogliamo porre una domanda che stiamo ponendo un pochino a tutti i nostri protagonisti di consulenza, ovvero quali saranno le prospettive per il 2020 nei mercati finanziari? Siamo in uscita da un 2019 che dal nostro punto di vista è stato caratterizzato da una fase di rallentamento sincronizzato nella prima parte dell'anno scorso e poi una fase di debolezza successiva. Adesso ci avviamo a questo 2020 in cui noi di Pinco prevediamo una moderata ripresa del ciclo economico nella seconda parte dell'anno, questo è il nostro scenario base, tuttavia non escevolo da possibili eventi inattesi e ci sono quindi dei rischi. Di conseguenza il nostro atteggiamento alla gestione dei portafogli è paziente e cauto, cauto nella misura in cui riteniamo giusto avere solo una moderata esposizione ai fattori di rischio e paziente perché deteniamo più liquidità e abbiamo meno complessità all'interno dei portafogli. Fatta questa premessa ovviamente bisogna domandarsi che tipo di proposte possiamo avere delle discussioni con i clienti finali e noi riteniamo che questo sia un anno in cui possiamo pensare al concetto di convergenza al centro, cioè in una fase avanzata del ciclo economico con valutazione degli attivi elevate ed anche col settore pubblico con meno strumenti per fronteggiare un'eventuale recessione, vale la pena dal nostro punto di vista scalare qualche marcia del rischio azionario, andate a posizionare su strategie più diversificate nel settore o multi-asset o credito multisettoriale, oppure per tutti coloro che invece sono in posizioni core, fix, inca, alta qualità e liquidità vale la pena spostarsi in alto a destra nella scala rischio e rendimento su strategie obbligazionari flessibili. Quindi definiamo questo tema un pochino quello della convergenza al centro che stiamo peraltro presentando nel nostro investment tour con il quale stiamo visitando 18 città italiane. Un ultimo consiglio da dare ai nostri investitori? Ma dunque noi ci rivolgiamo normalmente ai consulenti finanziari che sono la controparte, ecco il consiglio grazie per la domanda perché è importante, al di là di questo diciamo misura un po' suggerimento un po' opportunistico di convergenza al centro, scalare marce di rischio, quello che deve sempre prevalere è il fatto della pianificazione finanziaria e noi classifichiamo tutti i nostri prodotti attraverso una tessonomia che guarda ai bisogni degli investitori, distinguiamo l'esigenza della liquidità dall'esigenza della generazione di reddito e preservazione del capitale a quella della ricerca di strumenti di decorrelazione dagli attivi rischiosi e infine a quelli della crescita. A ciascuno di questi bisogni possiamo associare un portafoglio o una serie di soluzioni PINCO e a loro volta ciascuna di queste soluzioni è associata a un certo orizzonte temporale. Di conseguenza credo che il consiglio sia questo, soprattutto in questa fase di oggi, guardare alla pianificazione finanziaria, all'orizzonte temporale necessario, identificare i prodotti che siano strumentali al raggiungimento di questi bisogni. Perfetto, grazie mille. Grazie.